Team Music è live a casa tua. Tre case, tre porte, tre fan che aspettano. Ma solo uno incontrerà... Nesli. E tu cosa aspetti? Vai su teammusicliveacasatua.it e convinci il tuo artista preferito a venire da te. È difficile questa cosa. La musica potrebbe bussare proprio alla tua porta. Ci vediamo domenica prossima, ore 11.50, su Italia 1, live a casa tua.